Buon consiglio, carissimi amici, ben ritrovati sulle frequenze di questa trasmissione mariana di Maria Nunquansatis giunta alla sua quindicesima puntata, in particolare la quarta dedicata al dogma dell'assunzione al cielo in corpo ed anima di Maria Santissima che stiamo affrontando in questo primo ciclo di catechesi mariane dedicate ai quattro dogmi attualmente esistenti nella Chiesa Cattolica in onore della Madonna. Riassumo brevissimamente il percorso che abbiamo fatto, stiamo seguendo, stavolta in maniera abbastanza dettagliata, la Bola Monificentissimus Deus di Pio XII che il primo novembre del 1950 ha definito il dogma dell'assunzione. Siamo arrivati dopo l'ultima puntata in cui abbiamo esaminato lo splendido pensiero dei grandi dottori e santi medievali e moderni, a partire da San Bernardino da Siena, a terminare con il dottore simio Francisco Suarez. Cosa quindi è stato detto e pensato sulla assunzione di Maria Santissima in cielo? Abbiamo anche fino approfondito, al termine della puntata precedente, il parallelismo biblico Eva Maria e quindi la nuova Eva in lotta con il nuovo Adamo contro la perfidia del serpente antico che è il tema dominante della Sacra Scrittura sulla base del quale è biblicamente, anche se non esplicitamente fondata, la verità di fede dell'assunzione al cielo in corpo e anima di Maria Santissima. Oggi dobbiamo fare un passo ulteriore in avanti per andare proprio a vedere la definizione del dogma. Abbiamo visto la volta scorsa di nuovo le parti che ho appena detto, adesso andiamo a leggere la parte conclusiva del documento fino alla solenne definizione e poi cercheremo di trarne le ultime considerazioni. Poiché la Chiesa universale nella quale vive lo spirito di verità e la conduce infallibilmente alla conoscenza delle verità rivelate, nel corso dei secoli ha manifestato in molti modi la sua fede e poiché tutti i vescovi dell'orbe cattolico, con quasi unanime consenso, chiedono che sia definita come dogma di fede divina e cattolica la verità dell'assunzione corporea della Beatissima Vergine Maria al cielo, verità fondata sulla Sacra Scrittura, insita profondamente nell'animo dei fedeli, confermata dal culto ecclesiastico a fin dei tempi remotissimi, sommamente consona con altre verità rivelate, splendidamente illustrata e spiegata dallo studio della scienza e sapienza dei teologi, riteniamo giunto il momento prestabilito dalla provvidenza di Dio per proclamare stranamente questo privilegio di Maria Vergine. Prima pausa e primo piccolo commento, qui Pio XII fa un po' una sintesi di tutto quello che è la parte precedente del documento e quindi abbiamo anzitutto la richiesta quasi unanime e il consenso quasi unanime dei Vescovi di tutta la Chiesa Cattolica alla definizione come verità di fede divina e cattolica quindi nel massimo grado possibile della verità dell'assunzione corporea della Beatissima Vergine Maria in cielo. Poi ci sono tutti quanti i fondamenti, la Sacra Scrittura, il sensus fidelium, il fatto che i fideli, questa è una cosa molto importante, hanno da sempre creduto a questa verità. Poi il culto ecclesiastico, c'era una sezione che abbiamo affrontato rapidamente della bolla dove il Papa rendeva conto di tutte quante le feste gradualmente sorte in onore dell'assunzione di Maria Santissima e sempre gradualmente approvate via via che andavano moltiplicandosi dalla Santa Sede. Poi ancora il culto sommamente consona con altre verità rivelate, soprattutto ma non solo, ecco l'immacolata concezione di cui ne rappresenta come abbiamo già avuto modo di vedere lo sbocco e la conseguenza ultima e poi splendidamente illustrata e spiegata dallo studio della scienza e sapienza dei teologi, come abbiamo visto nelle ultime due puntate in particolare. Quindi, attenzione, riteniamo giunto il momento prestabilito dalla provvidenza di Dio, questo è un altro punto fondamentale. Io chiamo tutti quanti ragazzi perché si spera adulti nella fede ma bambini nell'anima, quindi ragazzi è anche troppo, mi perdonerete questa mia espressione, ma riteniamo giunto il momento prestabilito dalla provvidenza di Dio. Allora, come ho avuto modo di ripetere tante volte e anche di rievidenziare recentemente, noi sappiamo che la storia umana è misteriosamente guidata dalla divina provvidenza e ancora di più, se fosse possibile, quindi con un occhio, come dire, di particolare ulteriore attenzione, è guidata la storia della Chiesa dalla provvidenza. Cioè, il dogma dell'immacolata concezione è stato, come dire, formulato nel 1950 e non prima né dopo perché misteriosamente, ma veramente, il tempo in cui proporre universalmente in maniera vincolante questa verità era quello, non altro. A mio avviso è, non può essere, come dire, una coincidenza il fatto che io ho scritto un libretto, non voglio fare adesso pubblicità d'accordo, che si chiama Le Apparizioni di Maria, che partendo dall'Apparizione di Guadalupe, che per la verità è un po' prima, ma è l'unica, diciamo così, apparizione un po' fuori dal coro e limitandosi solo alle apparizioni riconosciute dalla Chiesa. D'accordo? Quindi, per esempio, prescindendo volutamente anche dal più clamoroso e più grande caso attuale di apparizione mariana, che indubbiamente è quello di di Medjugorje, ma non essendo ancora ufficialmente approvata dalla Chiesa ho voluto tralasciarla in questo testo. Quindi, vedendo solo le apparizioni approvate dalla Chiesa, c'è indubbiamente un'azione crescente e sempre più profonda della Madonna da circa il 1830, cioè io ho preso come data proprio simbolica le apparizioni di Rudebac in poi. Sicuramente. E può essere un caso che, diciamo, la Madonna scende in campo con tanta... non è che prima non c'era, la Madonna c'è sempre stata, però adesso il Signore in questo tempo della storia le sta chiedendo di scendere, come dire, in campo proprio in prima persona, quindi non misteriosamente, perché spiritualmente la Madonna c'è sempre stata, la madre della Chiesa l'ha sempre fatta, l'ha sempre interceduto per noi, d'accordo? Questo non... cioè, va anche nel 300 dopo Cristo faceva questa cosa, anche prima che fosse costruita la basilica di Santa Maria Maggiore, no? Ecco, però è chiaro che uno vede tutto quanto questo incalzare di apparizioni autentiche, con messaggi molto molto, a volte brevi ma molto incisivi, eh, prima non c'erano, d'accordo, o quantomeno non erano così frequenti, perché nel corso della storia sono sempre stati eventi, però molte apparizioni erano relegate, come dire, nell'ambito molto molto privato, non lo so, c'era un fenomeno da cui sono sorti poi santuari, immagini sacrano, che ne so, la Madonna interviene anche qui a Sermoneta, lo vedremo in questa settimana, nel 1796, proprio al ridosso della... poco prima, insomma, che arrivassero i francesi anche qui, quindi in tempi molto molto difficili, la Madonna qui fece un miracolo, nell'immagine venerata dentro la mia chiesa, d'accordo? Cioè nel senso che apriva e chiudeva gli occhi e muoveva le pupille, cosa molto interessante, no? Cioè da cui poi è nato questo grande culto, tra l'altro legato anche a qui il fatto che qui i duchi di Sermoneta guidarono la flotta della battaglia di Lepanto, quindi però ci fu un arricchimento ulteriore della devoluzione alla Madonna causato da questo miracolo, poi tra l'altro è stato per un certo periodo molto in auge, adesso è caduto un pochino nell'obbligo, insomma, anche qui qualcuno l'ha anche un pochino un po' dimenticato, molta gente del luogo neanche lo sa, no? Ecco, ma di queste cose non sono sempre state tantissime, d'accordo? Tante, 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 tante possibili a numerarle tutte quante, insomma, perché la Madonna, la mamma l'ha fatta sempre, insomma, la mamma se le cita. Però questa è una cosa relativamente nuova, nel senso che, cioè non è un fatto privato, capito? Cioè, salvo tuo figlio che si è spaccato una gamba, guarisco il paese dalla peste o cose di questo genere, lo preservo dal terremoto o roba del genere. Si tratta di un'azione, mi si perdoni il termine, pastorale che sta facendo la Madonna, di sollecitudine, di cura nei confronti dei suoi figli. Anzitutto, chiaramente, dei membri della Chiesa, ma non solo, perché non è che Dio si prende cura soltanto dei membri della Chiesa. È chiaro che comincia dalla Chiesa, perché poi la Chiesa ha il compito di, come dire, di andare verso tutti, a nome anche del Signore. Anzitutto, anche a nome di chi non sa neanche chi è, insomma, la Madonna, non facendo parte esplicita della Chiesa Cattolica. E, io dicevo, non può essere casuale che il terzo e il quarto dogma mariano, dopo quasi 1400 anni, perché la maternità divina, che è il secondo dogma mariano, viene dal concilio di Efeso, 431. Poi, silenzio, ci vogliono 1450 anni, quasi, per arrivare all'Immacolata Concezione. Quando? Nel 1854. Cioè, dopo poco che la Madonna comincia questa sua azione e, attenzione, prima di questo c'era stata la saletta, 1849. E, subito dopo la proclamazione dell'Immacolata Concezione, c'è l'Urd, 1858, dove la Madonna dice, per farsi riconoscere, io sono l'Immacolata Concezione. È chiarissimo che c'è un legame, no? Tra, vedete, tra dogma, quindi tra fede e devozione, tra dogma e attuazione, poi, del dogma, no? Cioè, l'Immacolata non se ne sta in cielo, così, a farsi gli affari suoi, ma, proprio perché è Immacolata, scende misericordiosamente a chiamare a penitenza i suoi figli, che, siccome immacolati non sono, devono diventarci, piano piano, combattendo il peccato e facendo penitenza, no? Poi, arriviamo all'assunzione. Qui, tre anni prima, l'ho già detto, nelle puntate precedenti, c'era stata le apparizioni qui vicino, vicino Roma, le porte di Roma, le tre fontane, questa non rientra tra le apparizioni, come dire, esplicitamente approvate dalla Chiesa. Però, come ho spiegato, come spiega anche quel testo, lì, dove la Madonna è apparso, è stato costruito un santuario che è ufficiato da ministri della Chiesa Cattolica. Quindi, quando la Chiesa consente di erigere un santuario in un luogo di apparizione mariana, dove lì si venera la Madonna vestita di verde che è apparsa a Bruno Cornacchiola, insomma, quindi, con tanto di pochi pubblici, con la grotta dell'apparizione, con tutta una serie di colette dove ci sono le frasi più significative che la Madonna ha detto in quel contesto, pubblicamente, insomma, in momenti di preghiera pubblica, ufficiale, insomma. E questo avviene tre anni prima dell'assunzione. E la Madonna, stavolta prima, all'URD, quattro anni dopo, stavolta tre anni prima, dice il mio corpo non poteva marcire, non marci. Attenzione, dice proprio questo. Cioè, l'unica cosa, come vedremo, affermata esplicitamente dalla bolla, perché la bolla non risolve, abbiamo già visto il problema circa la presunta morte o non morte, e se è morte in che senso, se è vera morte o non proprio della Madonna. Ma dice solo, afferma tassativamente, come vedremo, il principio dell'incorruttibilità immediata del corpo della Madonna. Cioè, la corruzione non poteva colpire quel corpo. Perché? Perché la corruzione del corpo è il riverbero esterno della corruzione del peccato. perché il principio della corruzione è solo il peccato. Se questa donna non ha peccato originale e peccato attuale, come ha detto, esattamente, vedete che termini precisi che usa la Madonna, il mio corpo non poteva marcire e non marcire. Non è non doveva marcire, non poteva. Cioè, capite? Questa è una bellissima notizia. E anche che ci fa veramente, perché la vergine della liberazione è delle fontane. Cioè, capite? Vuol dire che Dio non si è sbagliato a creare noi. Vuol dire che è veramente vero che la morte non è stata voluta e creata da Dio. La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, dice il libro della Sapienza, il secondo capitolo. E noi non avremmo dovuto morire. E il fatto che non avremmo dovuto morire è un attestato, se noi ci pensiamo bene, dell'amore di Dio nei nostri confronti. Perché Dio non ci avrebbe fatto... Ma ti pare che Dio può volere la morte di una sua creatura, con tutto quanto quello. Quindi quando noi vediamo un morto, dovendo pensare anche a sorella morte, dobbiamo veramente dire Signore mio, non soltanto che non me la prendo con te. Cioè, c'è una gente che va a dire ah, è morto quello e perché Dio l'ha fatto morire? Dico, ma stiamo scherzando. Ma stiamo su scherzi a parte, ma stiamo bene. Ma che Dio ha fatto morire? Ha fatto morire duro! Cioè, ci siamo suicidati da soli. Non è che Dio l'ha fatto morire. Capito? Cioè, questo dobbiamo... Non soltanto non ce la possiamo prendere col Padre Eterno, ma dobbiamo piangere perché al Padre Eterno gli facciamo vedere questo bello spettacolo. Ma non ci ricordiamo che Gesù ha pianto sulla morte di Lanzaro, sulla tomba di Lanzaro. D'accordo? E perché Gesù ha pianto sulla tomba di Lanzaro? Dice, ma io non ci sto dentro la testa di nostro Signore Gesù Cristo. Proviamo a fare qualche ipotesi, no? Perché Lanzaro era il miglior amico di Gesù. D'accordo? Non potrebbe esserci tra le cause del pianto di Gesù il fatto che deve vedere un amico suo, cioè uno, un essere umano, d'accordo? La materia unita allo spirito, questo capolavoro della creazione che va a mandare cattivo odore, che stava già a marcire dentro il sepolcro. Ma è una cosa brutta, no? Ma vi pare che il Dio della vita, colui che è la vita, colui che aveva creato tutto quanto perfettamente, non soffre a vedere una cosa di questo genere. Non solo che non dobbiamo prendercela con Padre Lanzaro del fatto della morte, ma dobbiamo noi piangere, ma non solo per la morte, ma perché siamo stati noi a far vedere a Dio questo film dell'orrore. Capito? Cioè a Dio non piacciono i film dell'orrore, i film dell'orrore non sono una cosa bella, eh? I film dell'orrore sono film del diavolo, perché l'orrore viene dal diavolo, d'accordo? Quindi noi a Dio dovremmo fargli vedere i film, le commedie brillanti, d'accordo? Ecco. Ma Dio ha dovuto vedere, a causa mia, a causa di Leonardo Maria Pompei, anche, anzi, a causa di Leonardo Pompei, che è il nome civile, perché Leonardo Maria è il nome di battesimo, è donna, dipende dal fatto che è il suo sacerdote, insomma, no? Ecco. Ma a causa mia, anche a causa mia, Dio ha dovuto vedere il film dell'orrore morte della creatura bellissima che io avevo creata, carne che diventa cibo per i vermi, d'accordo? Dopo che è stata abitata da un'anima razionale e addirittura per un battezzato dalla grazia santificante, tant'è vero che il corpo viene incensato il giorno del funerario. Cioè, capite cosa dice pure nel discorso dell'assunzione? Dice anche questo, lo dice. Quindi, questo per commentare le parole, è giunto il momento prestabilito dalla provvidenza per programmare solamente questo viaggio di Mare Vergine. Questo, perdonatemi, non mi importa niente se dovranno fare un'altra puntata sull'assunzione, però a mio avviso queste cose sono non importanti ma di più, perché danno una profonda pace dell'anima. Quindi, dice, ma come? Ma l'assunzione dobbiamo definirla? l'assunzione per divina provvidenza doveva essere definita anno 1950. Punto e basta. Perché noi dobbiamo sempre pensare che la divina volontà misteriosamente, non sappiamo come fa a fare tutte queste cose qua, ma le fa misteriosamente. Nel rispetto del libero arbitrio, della libertà di tutte le cause seconde, quindi senza fare nessuna forzatura, d'accordo? E questo lo riesce a fare perché è Dio, perché se lo sapessimo saremmo Dio pure noi, ma porta avanti lei la storia, capito? Questo ci dà una grandissima anche pace, no? Cioè, io vedo la gente si agita, se prende pena, anche per motivi santi, per i problemi del mondo, per le situazioni brutte, per tutto quello che vogliamo, non parliamo poi delle situazioni ecclesiali, eccetera, eccetera, no? Tadasta tranquillo, tadasta calmo, cioè, serenamente, ci sono le prove e le ripulazioni e le viviamo, la divina volontà sta disponendo questo, tranquillo, si va, quando si sta in comunione con Dio, si va tutto quanto a risolvere in bene, ah, ma la chiesa sta andando un movimento brutto, attacchi a destra, a sinistra, da dentro e da fuori, tranquillo, tranquillo, è tutto sotto controllo, state tranquilli, io sono fermissimamente convinto, adesso, perché, dalla tribolazione attuale, in cui, si trova, in parte, perché poi, si continua a camminare anche serene e tranquilli, la chiesa, ne uscirà bellissima, purificata, rinnovata, trasformata, stupenda, certo, fino a quando uno sta sotto pressione, ma noi dobbiamo, non possiamo non credere a queste cose, altrimenti siamo atei, siamo, capite, se tu non credi nella divina provvidenza, cioè nella cura che Dio ha, ma soprattutto sulle cose sue, no, anche la gente, cioè, capite che, io le capisco entro certi limiti, che sulla base di pur condivisibili, ma la chiesa va in rovina, dobbiamo fare qualcosa, attenzione, cosa, cosa, del fatto che la chiesa va in rovina, sapete chi è che se ne prende cura in primis? Nostro Signore, capite, non c'ha bisogno del salvatore della patria di turno, se ne prende cura, Nostro Signore, qualche giorno fa è stato San Francesco, no? Ai tempi di San Francesco come stava la chiesa? Gli era detto Gesù a San Francesco, Francesco vai, riparo la mia casa perché come vedi va in rovina, d'accordo? Ma non è che Francesco si è alzato la mattina, San Francesco, ubitendo a questa cosa che tra l'altro non aveva capito niente, perché all'inizio, perché è andata a ristorare la chiesa della Porziuncola, ha fatto una grandiosa opera di rinnovamento, ma una bellissima opera di rinnovamento, evangelica, d'accordo? Il grande rinnovamento è stato io comincio a vivere il Vangelo, io, e no per scherzo, e no a metà, e con tutte quante le sue ultime conseguenze fino alla fine, d'accordo? Non toccava neanche i soldi San Francesco, altro che povertà, capite? Senza giudicare nessuno, senza mettere la labbra di nessuno, anzi, manifestando onore, rispetto, tutto quello che vuoi, verso le autorità ecclesiali dell'epoca che basta studiare la storia e io da prete non preferisco non aggiungere altro, insomma, non erano sempre così eccellenti, nonostante che fossero molte eccellenze, d'accordo? Ma, capite? Cioè, quindi, è giusto avere una cura, un amore, un'attenzione, una sollecitudine, tutto quello che vogliamo, ma questo deve essere sempre fatto in maniera ordinata, cioè, devo operare, devo pregare, devo muovermi, ma nella coscienza che è Dio che si sta già preoccupando di queste cose, perché chi dipende la Chiesa, in ultima analisi, a Gesù Cristo, la Chiesa fonda sulla sua promessa, le porte degli inferi non prevarranno, non ha detto non la combatteranno, anzi, è contrario, non ha detto non faranno devastazione, non ha detto che non succederanno un sacco di guai, questo Gesù non lo ha detto, perché non prevarranno, vuol dire che ci sarà una lotta furibonda, cioè, che potreste pure pensare che è la fine, abbiamo perso, ma non perderemo mai, questo è quello che dice Gesù, ma non perché siamo bravi noi, perché la cura di questo è di Gesù Cristo, Dio comanda Lui, capite? Io ho fatto qui su questa radio, l'ultimo ciclo di Catechesi fatto a Spazio Giovane è stato dedicato alla Divina Volontà, che non dice, per tanti aspetti è una bellissima rivelazione che dilata e amplia ciò che già sappiamo, capite? Cioè, che comanda il Padre Eterno, è scoperto l'America, è tutta America, d'accordo? Però un conto che tu lo dici come chiacchiere, un conto che tu lo vivi come vita, perché guardate è che quando uno ci crede sul serio che comanda il Padre Eterno, la vita cambia, perché comanda il Padre Eterno vuol dire che non si muove veramente foglia che Dio non voglia, o nel senso della sua volontà intenzionale o della sua volontà permissiva. Quindi, quando il Papa dice riteniamo giunto il momento prestabilito dalla provvidenza di Dio per proclamare solennemente questo privilegio, sta facendo riferimento a questa dimensione storica e progressiva se vogliamo della rivelazione, perché la rivelazione pubblica si è chiusa con la morte dell'ultimo apostolo, ma, ecco perché c'è il magistrato della Chiesa, ecco perché c'è nei concili, è un patrimonio consegnato, è un patrimonio che si trova spesso nella forma di metallo grezzo, d'accordo? Cioè c'è il metallo, lo devi però portare in raffineria, quindi devi togliere le scorie e dire guarda un po' che ci sta qua dentro, questa è la funzione che è il magistero e questa è un'operazione che avviene con il tempo, io recentemente ho detto questo, lo dico sempre, è meglio, ho fatto anche il titolo di un omelia che ho recentemente caricato su YouTube, è meglio la chiesa di ieri o è meglio la chiesa di oggi? Punto interrogativo? Certo, in età apostolica c'era un grande fervore, c'era un grande annerito al martirio, certamente, ma c'erano anche dei problemi, basta leggere, feci quell'omelia durante la lettura quotidiana della scrittura della Santa Messa c'era la prima lettera di Corinzi, basta che uno legge la prima lettera di Corinzi, insomma, che è anche una lettera molto molto antica, è tra le più antiche del Nuovo Testamento e si accorge come comunità apostolica fondata da San Paolo dove predicava anche San Pietro e Apollo che era uno dei più grandi predicatori dei primissimi tempi, era un preco di Sant'Antonio da Pato a quanto pare eppure stavano, c'erano delle cose, insomma, degli scandali, delle situazioni in quella comunità che fanno a cappone alla pelle, insomma, io non ho mai dovuto fare una predica a nessuno contro il caso di incesto, insomma, eppure San Paolo cita questo, non si tratta di fare, lo cita nella prima lettera di Corinzi, lo può leggere chiunque, quindi non è fare pubblicità una cosa brutta, l'ha scritto, quindi, allora, quindi, non bisogna troppo troppo mitizzare, certo, oggi stiamo diversamente tribolati, perché la Chiesa stava sempre tribolata, però, il patrimonio dogmatico che abbiamo oggi, dottrinale, e anche l'esperienza di vita, perché in duemila anni di vita, insomma, cambiano le cose, si cresce, è differente, quindi questo ci deve aiutare a vivere, questo è molto importante, questo qui, nella serenità, nella gioia, nella pace, che non è l'atteggiamento stupido di chi, come distrutti, si mette la testa sotto la sabbia, non vuole vedere i problemi, non vuole soffrire, no, li guarda bene in faccia, li accoglie, li fa propri, ci soffre, ma, con questa orizzonte, con quest'ottica, ci sta pensando il Padre Eterno, dice, ma quando sarà fatto il quinto dogma mariano, un po' di tempo fa, qualcuno dice, mi pare che ci sono a me, dice, ma, se la Madonna ha chiesto ad Amsterdam, vuole il quinto dogma mariano, ma ti pare, perché la Chiesa non lo fa subito? Allora, intanto, la Madonna Amsterdam ha sollecitato questa cosa, quando saranno maturi i tempi, sorgerà un Papa, sicuramente, d'accordo, che prenderà a cuore questa questione, e farà il quinto dogma, io sono sicurissimo che sarà fatto il quinto dogma, ma non è che, cioè, io amo tantissimo la Madonna, se dipendesse da me, il quinto dogma, tra due ore, se potessi, dovrebbe fare, capito? ma non è che sto disperato, ah no, possiamo fare, l'ha già detto nel 1900, alla fine degli anni 50, sono già passati i 50 anni, nessuno se la fila alla Madonna, calma, 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 cioè, anche i tempi di Dio, le cose di Dio, cioè, chi vive nella Chiesa lei sa queste cose qui, con calma, con calma, 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 questa grande parola, allora, proseguo la lettura, se no non finiamo neanche di leggere il testo, noi che abbiamo posto il nostro pontificato sotto lo speciale patrocino della Santissima Vergine, bravo Pio XII, alla quale siamo rivolte in tante tristissime contingenze, noi che con pubblico rito abbiamo consacrato tutto il genere umano al suo cuore immacolato, lo fece, da solo Pio XII, quindi, se non ricordo male, nel 1942, e abbiamo ripetutamente sperimentato la sua validissima protezione, abbiamo ferma fiducia, e questa solenne proclamazione e definizione dell'assunzione sarà di grande vantaggio all'umanità intera, perché renderà gloria alla Santissima Trinità, alla quale la Vergine Madre di Dio è legata da vincoli singolari, attenzione, renderà gloria alla Santissima Trinità, alla quale la Vergine Madre di Dio è legata da vincoli singolari, seconda pausa doverosa, io ho citato le apparizioni mariane, le conosco, queste qua recenti, sono scritte un libretto, rileggo quello che ha scritto Pio XII, renderà gloria la Santissima Trinità, alla quale la Vergine Madre di Dio è legata da vincoli singolari, come non pensare, a una delle frasi dette tre anni prima, a Bruno Cornacchiola, io sono colei che sono nella Santissima Trinità, frase bellissima, no? Io sono colei che sono nella Santissima Trinità, che ci fa capire proprio i vincoli del tutto singolari, perché qui sarebbe da fare un pane girico sulla mamma che non finisce mai, cioè lei non è una tra le tante, neanche la numero uno tra le tante, poco, ma è una creatura del tutto singolare e ha vincoli del tutto, singolari vuol dire, singolare in italiano vuol dire singolare, ci sono delle cose che ha solo lei, ce le ha sempre avute solo lei e per sempre ce le avrà solo lei, cioè questa creatura, io spero che queste il titolo di questa di questa trasmissione è verissimo, è un pezzo di San Luigi di Monforte di Maria Nunquansatis, cioè non se ne diranno mai abbastanza perché questo è un pozzo senza fondo, pur essendo un pozzo limitato, perché dobbiamo dire e credere fermamente, come insegnare a Monforte, che le perfezioni di Maria Santissima in quanto creatura finita sono limitate, non sono infinite come quelle di Dio, ma qual è il limite di questa creatura, capite? Perché il fatto che ci sia un limite è come la questione dei licenziati, ma l'universo è infinito o è limitato? Buonanotte! Quanto grosso è lo spazio? Sicuramente è limitato, ma è grosso quello spazio lì, lo spazio sullo spazio di lei. Quindi, vi è da sperare, infatti, proseguo la lettura, che tutti i cristiani siano stimolati da una maggiore devozione verso la Madre Celeste e che il cuore di tutti coloro che si gloriano del nome cristiano sia mosso a desiderare l'unione del corpo mistico di Gesù Cristo e l'aumento del proprio amore verso colei che avviscere materne verso tutti i membri del corpo Augusto. Nuova piccola pausa. Quindi, non sono devozione verso la Madre Celeste e aumento dell'amore la Madonna va amata e qui dobbiamo chiederci questa è una catechesi quindi ci stimola sempre un po' ma io la amo la Madonna ma la amo la amo tanto colei che avviscere materne ecco, qui penso subito per esempio alla devozione di Papa Francesco nei confronti proprio della maternità di Maria devozione sua personale e modello che propone anche alla Chiesa tutti quanti i suoi discorsi sull'essere madre sulla tenerezza che dobbiamo tutti imparare dalla Madonna perché è uno stile meraviglioso molto molto evangelico anche Gesù era così guardate che Gesù gli assomigliava tantissimo alla Madonna non ci scandalizziamo Gesù è figlio solo di Maria per cui i tratti temperamentali voi sapete che i tratti temperamentali non sono creati dalla Santissima Trinità noi li prendiamo insieme ai cromosomi i tratti temperamentali quindi il temperamento quello che noi chiamiamo comunemente carattere anche se in ascetica c'è una distinzione tra temperamento e carattere però adesso non è questa la sede per approfondire questi discorsi assomiglia a quello ero uguale a quello della Madonna quindi ecco perché Gesù è così ordinariamente pieno di dolcezza di amore di bontà perché l'ha preso da lei ma che Gesù Cristo prende ma Gesù l'ha voluto prendere da lei chiaro poteva farne a meno della Madonna ma ha fatto lei così perché lui umanamente nella sua umanità ha voluto assomigliare a quei tratti è chiaro che questo dipende dal suo beneplacito non è che Gesù Cristo c'ha bisogno della Madonna o Dio c'ha bisogno della Madonna questo si sa no? ecco ma ha voluto averne bisogno in questo senso ecco e quindi la percezione della figura della Madonna come di questa madre che avviscere di amore bellissime no? non c'è niente di più bello nel mondo che l'amore materno no? una madre dinanzi al figlio non capisce più niente non capisce non sapete che le madri anche quando un figlio è sciagurato insomma a volte anche delinquente per una madre è sempre un figlio non è che è cieca la madre lo vede che col figlio è un delinquente però è sempre il figlio d'accordo è il figlio e quindi si prodiga fa di tutto anche per come dire per addrizzarlo per farlo diventare un pochino migliore no? ecco c'è tanto bisogno ecco nella chiesa di avere una madre eh perché guardate che Gesù Cristo ha un padre in quanto Dio e una madre in quanto uomo eh e c'era una frase insomma tipica della spiritualità cattolica non puoi avere Dio per padre se non hai Maria per madre e oltre che non avere Maria per madre essendo Maria madre della chiesa ed essendo la chiesa a sua volta madre non puoi avere Dio per padre se non hai la chiesa per madre capite? quindi proseguo la lettura vedete a sperare inoltre che tutti coloro che mediteranno i gloriosi esempi di Maria abbiano a persuadersi sempre meglio del valore della vita umana il valore della vita umana si è dedita totalmente all'esercizio della volontà del padre celeste e al bene degli altri oh vedete c'è quest'altra dimensione la meditazione dei gloriosi esempi di Maria cioè la Madonna è stata assunta in cielo non solo perché non aveva il peccato originale ma perché non aveva nessun peccato attuale non solo perché non aveva nessun peccato attuale ma perché è andata così in alto in paradiso perché la sua vita è un capolavoro di santità e qual è stata la santità della Madonna totalmente dedita all'esercizio della volontà del padre celeste e al bene degli altri anche qui mi permetto di riprendere di rilanciare una cosa che tante volte ci ricorda il Papa non basta per dirsi cristiani non fare il male tra l'altro poi molte volte è una percezione del non fare il male è molto all'acqua di rose noi predi sappiamo molto bene padre non ho fatto niente di male non ho ammazzato non ho rubato d'accordo basta quindi non soltanto limitarsi a non fare niente di male ma questo male è abbastanza ristretto perché poi se uno va ricordate le catechesi fatte su Radio Buon Consiglio tanti anni fa sui dieci comandamenti se uno comincia poi a andare a a scrostare un po' a sfrugugliare un po' a scavare un po' è tutto da dimostrare che non è fatto niente di male comunque ma non basta neanche dire beh guarda ho sentito tutte le cateche sui comandamenti ho fatto la confessione generale abbiamo chiuso non hai chiuso benissimo adesso apriamo altri capitoli qui bisogna fare in tutto la volontà del Padre Celeste la volontà del Padre Celeste non è soltanto astieni dal peccato mortale o anche dal peccato volontale ma è fai il bene fai il bene a quello che ti odiano ama il tuo nemico parla bene di quelli che ti fanno del male pratica le opere di misericordia corporale spirituale si sollecita nei confronti del prossimo il buon parola del buon samaritano vedi qualcuno che sta in difficoltà non aspettare che te lo chieda previenilo nel bisogno eeeh voglia fa capite è bello vivere in questo modo cioè il Signore ha trato dei doni inventate c'hai soldi qui sempre il tasto dolente e comincia a pensare a quanto bene puoi fare quei soldi non ti ritenere soltanto per te non li usare soltanto per i tuoi bisogni interessi e piaceri o semplicemente per accaparrare in vista della paura del futuro e da lì comincia a informare che ci facciamo quali opere buone ci facciamo quali organizzazioni posso fidare che aiutano il terzo mondo il quarto mondo che serve in parrocchia non nella mia parrocchia in altre parrocchie ma che serve in parrocchia è arrivato lo tsunami stanno a fare la raccolta di fondi capite io sono stato recentemente sono tornato ad Amatrice ho saputo per esempio che l'area food di Amatrice è stata costruita me l'ha detto insomma una persona che conosco da quando ero bambino che capitava lì con i soldi degli sms hanno raccolto 40 milioni di euro sono soltanti 40 milioni di euro e bisogna certamente essere solleciti anche nel bene una vita totalmente dedita all'esercizio della volontà del padre celeste e al bene degli altri fare del bene uno dei motti di Don Bosco bene 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 tutto il bene possibile è mai immaginabile che si possa fare non perdere insomma il tempo ricordiamo anche attenzione non facciamoci prendere dalla idolatria del fare che è grande bene grande bene anzitutto pregare ma pregare Dio per i vivi e per i morti attenzione è un'opera di misericordia spirituale non ce lo dimentichiamo non ce lo dimentichiamo se non è tanto un'opera di misericordia corporale per questo se tu un giorno dici vado a farmi una veglia di preghiera vado a farmi un'ora santo o qualcosa per la conversione di tizio quella è una grande opera di misericordia spirituale non è che tu non hai fatto niente o ancora per esempio ti avanzano i soldi far celebra un pochino di messe per i defunti quella è una grande opera far celebra una messa per un defunto perdonatemi se è un'opera grandissima perché i defunti non possono fare niente di per sé quanto siamo solleciti in queste cose vedi ah ma c'è questa quella persona c'è mio figlio che sta so anni che sta lontano dalla fede sono disperato non so che fare ma gliel'ha mai fatta celebra 30 messe per la sua conversione per esempio 30 messe ci vuole ordinariamente un'elemosina certamente che è un'elemosina sappiamo che un sacerdote può anche anzi è lodevole che accolga intenzione di messe anche senza ricevere nessuna offerta ordinariamente specialmente questo ve lo dico anche per un prete che non ha la parrocchia accampa con le elemosine delle messe ve lo dico io ve lo dico d'accordo un prete che non c'è un incarico un prete studente per esempio o quelli che stanno insomma nel terzo nel quarto mondo ci campano queste cose qui cioè nel senso proprio ci campano nel senso che ci comprano le cose da da mangiare capite un prete che faccia il prete non è ricco d'accordo ecco però tu fai un'opera di misericordia doppia perché magari dai dai il pane da mangiare a un prete anche se non lo sai e magari non te lo dirà e dai una grandissima perché la cosa più grande che si possa fare dice ma questo sta lontano da Dio la messa non è acqua capite quindi questa sollecitudine nel bene stavo tutto il giorno a pensare cominci a pensare a quante cose buone potresti fare anche perché fare il bene dà una gioia interiore perché dove c'è il bene c'è Dio e farlo quel bene lo fa diventare parte di te e tu poi starai bene capito le persone anche quelle che sono un po' quando cominciano a provano a fare qualcosa mi sento bene perché ho fatto sta cosa insomma bella per il prossimo ma non lo fare come cosa sporadica cioè noi dovremmo essere come dire iperattivi sotto questo punto di vista cioè non sprecare come facevano i santi neanche un secondo della giornata che non si è speso in cose sante buone o utili questa era la vita della Madonna contemplare l'assunzione non dobbiamo dire ma la senza peccato è stata assunta eh no a parte che si è mantenuta non guardare soltanto al fatto che si è mantenuta senza peccato perché poi la Madonna è assunta poi lo vedremo sicuramente oggi non finiremo non leggiamo ancora la definizione non fa niente ma è arrivata talmente alta che sta seconda soltanto a Gesù Cristo e come va a arrivare fino a lì per tutto quello che ha combinato di buono nella vita terrena capite una parte tante dalle piccolissime cose come le faccende di casa alle grandissime cose come gli eroismi delle separazioni di Gesù all'eroismo di stare sotto la croce amando i nemici di Gesù e perdonandoli eccetera allora concludiamo che mentre il materialismo è la corruzione dei costumi da esso derivata minacciano di sommergere ogni virtù e fare scempio di vite umane suscitando guerre sia posto dinanzi agli occhi di tutti in modo luminosissimo a quale eccelso fine le anime e i corpi siano destinati e che infine la fede nella corporea e assunzione di Maria al cielo renda più ferma e più perosa la fede nella nostra risurrezione scriveva nel 1950 dice bene il mondo continua a scendere verso il materialismo e corruzione di costumi che oggi è giunta a proporzioni che sarebbe aria fritta insomma adesso stare a fare discorsi di questo genere lo sappiamo benissimo è a noi che ce ne importa nel senso che noi guardiamo questo esempio luminosissimo e noi il male e la corruzione lo contrastiamo moltiplicando il bene in tutte le sue forme possibili questa è la vera riforma della chiesa questo fu anche l'intuizione geniale a mio avviso di San Francesco lascia perdere cose che non funzionano mettiti a fare il bene tu assumi stili differenti tu modi di fare differenti tu e poi la nostra fede non è la risurrezione ma noi ci crediamo veramente che questo corpo questo il nostro corpo lo stesso dice il concilio lateranense IV che abbiamo avuto su questa terra risorgerà più bello sano giovane incorruttibile immortale questa non è una favola questa è una verità di fede divina e cattolica che fa parte del simbolo apostolico quindi che è nata con la chiesa stessa Gesù ha voluto i 1950 anni per farla diventa dogma di fede d'accordo questo dogma di fede la rafforza questa verità di fede ma noi ci crediamo oppure no beh la prossima volta leggeremo la solenne definizione perché la divina volontà oggi ha portato le nostre considerazioni su una serie a mio avviso di importanti punti e quindi tanto non ci corre dietro nessuno la trasmissione andrà avanti ancora per un pochino ci aggiorniamo alla prossima settimana un saluto a tutti ave grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti